Per la SBA Arezzo esordio casalingo sabato contro il CUS Pisa. Gli Amaranto dopo la vittoria nella prima giornata in trasferta alla Spezia cercano il BIS tra le Muramiche. Sicuramente ci siamo allenati bene, abbiamo preparato Pisa. Sappiamo quello che hanno fatto nella prima partita, ovvero vincere contro Prato. Sono una squadra che ha appena vinto un campionato di C-Silver, quindi sono una squadra che sa giocare insieme. C'è in italiano uno dei migliori giocatori della categoria perché sta facendo le stesse cose che faceva l'anno scorso anche in questa. Quindi proveremo a mettere in difficoltà perché giochiamo in casa e in casa vogliamo vincere. C'è molto entusiasmo intorno alla SBA Arezzo, dove può arrivare questa squadra? Io ho parlato con i ragazzi all'inizio dell'anno, noi siamo un mix di giovani di cui alcuni al primo anno in Serie C e un mix di giocatori più esperti che ormai conoscono questa categoria. Non ci siamo posti limiti, andiamo di giornata in giornata consapevoli però del fatto che vogliamo provare a vincere tutti.